Abbiamo visto in queste ore circolare sulla rete delle foto di una cena tra Micheli, una cena a Pozzuoli tra Maurizio Micheli, Mauro Meluso e Calenda la gente. C'è in questo mood... E' più informato di me. Lui è anche procuratore di Juan Jesus, vero? Sì. No, 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 ma per carità non voglio... No, anche perché Juan Jesus, per esempio, ieri è venuto da me e mi ha detto Presidente, posso andarmi a curare così, così, così? Allora io ho chiamato il mio amico Pier... Come si chiama? Villa Stewart. Mariani. Mariani. Pier Paolo. Io ho detto Pier Pa, io te lo mando, ma tu per una settimana, mattina, pomeriggio, adesso devi stare qua, adesso io ti faccio fare un programma dai nostri medici e così cerchiamo di accontentarlo e di recuperarlo il più presto possibile. Quindi probabilmente, non so se abbiano parlato di questo e poi avranno parlato pure di Osimen, che si era fatto, cosa non si era fatto, che problemi aveva, che problemi non aveva, perché ancora eravamo lì ad aspettare il risponso delle sei settimane che ci vogliono per recuperarlo. Sì, no, completo. Sì, no, completo.